noi una volta che abbiamo inserito tutte qua abbiamo sentito tutte quante le informazioni che ci servono e abbiamo le pagine pronte a lavorare il primo passo è quello di andarsi a creare il pubblico ora questa del pubblico è sicuramente la cosa più bella che abbia trovato su facebook da quando ho cominciato a lavorarci perché praticamente cosa succede succede che loro qua tirano la possibilità di crearti tre tipi di pubblico diciamo i primi due sono molto interessanti il terzo invece riguarda soltanto determinate categorie determinate categorie che se non ricordo male sono il credito immobiliare e immobiliare e ce ne stiamo una terza sempre a politica diciamo tre punti difficilmente un dj o comunque qualcuno che si occupa della musica andrà a toccare ecco allora partiamo subito dal pubblico personalizzato come vedete ci sono diversi tipi di fonti di origini che mandano al sito web l'attività dell'app l'elenco di clienti le attività offline di queste tre diciamo che sia l'attività offline ma soprattutto il sito web web sono quelli che funzionano col pixel nel senso che appunto il sito web c'è una persona che va sul tuo sito compie determinate azioni tu in quel momento lo hai agganciato e il momento in cui deciderai di fare pubblicità su questa lista di contatti sicuramente questa persona la vedrà nella 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 sua timeline insomma attività nell'app o come dice il nome stesso devi avere un'app che c'è un app nel momento in cui attivi questo tipo di sponsorizzata tutte le persone che hanno interagito in quella app quindi che l'hanno scaricata ci hanno giocato hanno effettuato un acquisto lo stesso discorso di prima come dire li inserisci in una lista ogni volta che andrà a fare delle sponsorizzate riferimento a questa cosa come dire con tre su quella lista ora una delle più interessanti è sicuramente l'elenco di clienti che andremo a fare un test praticamente l'elenco di clienti è una cosa molto figa perché se voi avete liste contatti di indirizzi mail propriamente non solo la mail indirizzi mail fatti con un certo criterio ossia che abbiano almeno un minimo di dati che facebook possa andare a incrociare con quelli con i dati che a lui quindi diciamo che nome e cognome numero di telefono l'età il sesso la città lo stato queste sono tutte cose più informazioni voi date più facile che facebook li vada poi a trovare all'interno dei dei suoi dati insomma è comodo perché si possono importare i dati stesso da mail cimp quindi se uno lavora come il cimp già si trova le liste pronte e se le importa direttamente all'interno di facebook altrimenti stesso facebook ti fa scaricare un modello di file e ti dà delle linee guida insomma per per formattare queste per formattare questi dati e sotto comunque da tutta una serie di informazioni per chi massica un po il csv oppure l'excel insomma dovrebbe non dovrebbe avere grosse difficoltà a creare una lista del genere questa lista è molto importante perché allora se i dati come dire se gli indirizzi mail vi sono arrivati per caso eh è un conto se l'avete recuperati online è un conto ma se sono indirizzi mail con i quali voi avete avuto rapporti di lavoro o comunque persone che per un motivo per un altro vi conoscono faccio un esempio hanno compilato un form per iscriversi alla newsletter piuttosto che per essere informati sugli prossimi eventi sulle scelte discografiche sicuramente diventa molto importante che significa andare a parlare con persone che già vi conoscono e che probabilmente che hanno loro dato i loro indirizzi mail quindi sono persone più propense ad ascoltare quello che voi state per dire è ovvio che è molto importante ma anche qua come tutte le cose di facebook si gioca sui grandi numeri è ovvio che liste con pochi contatti non mi andranno a fare veramente la differenza ma nel momento in cui incominciate ad avere liste con un buon numero di contatti verificati allora allora la cosa incomincia a diventare molto 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 simpatica ok e anche perché la puoi dividere se ci stanno quelli che magari come dire un fai un gruppo di promoter fai un gruppo di chi ascolta chi compra anche perché poi tutti questi dettagli come diciamo a tante di queste cose le vai a recuperare dalle varie dai vari insight come dire di di inquincio a prendere tutti i numeri che hai devi incominciare a organizzarti per bene perché da lì in poi diciamo di incominciare a ragionare sulle cose che vuoi andare a fare perché perché noi adesso vedremo come si creano le liste vedremo come si creano delle delle inserzioni sponsorizzate ma tenete presente che tutto questo è un'alchimia nel senso che ci stanno dei consigli da dare assolutamente sì ci stanno delle buone pratiche assolutamente sì ma rimane un'alchimia perché molto e tanto lo si gioca col contenuto che poi obiettivamente si andrà a postare perché tu vuoi fare la sponsorizzata migliore del mondo ma metti il contenuto più brutto del mondo e obiettivamente la cosa non è che porterà i risultati grazie grazie grazie